Dalla remota Murmansk, nell'estremo nord russo, alla splendida San Pietroburgo. Ma per i 30 attivisti di Greenpeace non si è trattato di un premio, vista la destinazione finale, uno dei penitenziari più vecchi e malandati della Russia. Motivi giurisdizionali alla base del trasferimento, che però mette in apprensione i colleghi dei militanti ecologisti. Siamo preoccupati per le condizioni dei nostri attivisti. È improbabile che vengano messi in celle in cui rimangano per conto loro. Potrebbero finire con altri detenuti. I 30, tra cui l'italiano Christian D'Alessandro, sono stati arrestati il 18 settembre a seguito di questo assalto compiuto a una piattaforma della Gazprom, situata nell'Artico. La cattura avvenne con un blitz a bordo della nave di Greenpeace Arctic Sunrise. L'accusa nei loro confronti è stata derubricata due volte, prima da terrorismo a pirateria, poi da pirateria a vandalismo. Anche per quest'ultima però rischiano fino a sette anni di galera.